Allora, Pierfrancesco Robertis, tra l'altro tu hai scritto un libro, Migranti S.p.A. e il business delle immigrazioni, cifre, vittime e anche carnefici. Ci siamo infilati in un vicolo cieco, se sì, per colpa di chi, se è possibile dare una colpa? Diciamo così, i conti si fanno alla fine. La fine del primo tempo è stasera, dopo il pre-vertice di Bruxelles. E il secondo tempo è il vertice in settimana su Dublino. Quindi lì bisognerà capire se l'Italia riuscirà a portare a casa qualcosa. Credo che questa narrazione che ho sentito anche adesso dall'europarlamentale leghista, che l'Italia fino adesso ha solamente preso degli schiaffi, sia semplicemente sbagliata. E' quello che succede però in Europa. Scusi un attimo, se noi abbiamo al vertice della BCE un signore che si chiama Mario Draghi, che negli anni di sicuro è stato un punto di riferimento per l'Italia, è perché l'Italia è all'interno di un sistema di alleanze importanti. Non oso pensare che cosa sarebbe stata la crisi senza Draghi alla BCE. Quindi, insomma, immaginiamoci cosa sarebbe stata l'isolamento. L'isolamento è la cosa peggiore, in particolare nel momento in cui le tue coste sono quelle più vicine alla Libia. Non solo la Libia è Africa, ma la Libia è l'unico stato del Nord Africa che non è governato di fatto. Perché una cosa è avere come ha la Spagna il Marocco come paese frontaliero. Tu hai un re del Marocco dal quale puoi andare e fare i tuoi accordi. Poi come li fai è un altro conto. In Libia non sai con chi parlare. Quindi voglio dire, siamo oggettivamente e obiettivamente i più esposti. In questo stato di cose la cosa peggiore è l'isolamento in generale, in diplomazia. Questa è una vecchia regola della diplomazia, non bisogna mai isolarsi perché la rete delle alleanze è fondamentale. È quello che ha prodotto per l'Italia dei risultati in Europa importanti, la presenza di Draghi. L'Italia è uno degli stati che ha conti alla mano, i massimi benefici anche economici nel permanere nel mercato unico. Quindi, insomma, questi sono dei dati. Poi vediamo se di qui a giovedì o venerdì prossimo l'Italia riuscirà a portare a casa dei risultati migliori di quelli che si sono avuti fino adesso. Io credo che nel complesso i risultati siano stati la nostra permanenza nell'Europa negli anni. Poi ci sono stati i momenti migliori e i momenti peggiori. È stata vantaggiosa per l'Italia. Allora, vorrei ricordarvi che... Su gli hotspot, gli hotspot è certo che si possono fare, in teoria. Si va, si paga, alla vecchia maniera, no? Quindi voglio dire, si fa come è sempre accaduto nella storia dell'umanità. Raggiù con un po' di soldi, in Tunisia, in Albania, abbiamo dato 3 miliardi, abbiamo dato, l'Europa ha dato 3 miliardi alla Turchia. Credo che la Tunisia e l'Albania, con molto meno, sono in grado di fare quello che deve essere fatto. Il problema è capire se servono questi hotspot, se in qualche modo riescono ad abbattere i flussi. Io non credo, perché nel momento in cui ci sono delle persone che dall'Africa vogliono arrivare in Italia, se sanno che in Italia, in Europa, se sanno che c'è la barriera degli hotspot, troveranno un'altra strada. Quelli lì vogliono uscire dalle cose, dal politicamente corretto. Questi qua vogliono arrivare in Europa, in un modo o in un altro cercheranno di farlo. Se una rotta viene ostruita in qualche modo, passano dall'altra, cioè c'è una pressione che non è facile arginare. E non sarà un hotspot in un modo o in un altro, perché è chiaro che l'hotspot tenta di ricondurre in un ambito, se non legale, diciamo controllato, un certo fenomeno, che è di per sé che sfugge al controllo. Quindi sarà probabilmente anche un trappolone per l'Italia, perché gli si farà credere che risolverà il problema e non risolverà niente. Francesco, una piccola precisazione sul tema della percezione dell'immigrazione. Noi parliamo spesso, giornalisti, politici, dei numeri, però parliamoci chiaro. I numeri non sono quelli che servono a stabilire la percezione delle persone. La gente non guarda i numeri, la gente guarda che va ad esempio in un ufficio pubblico, in un ospedale e trova l'indicazione del reparto, la trova in italiano e dopo la trova in arabo. Iscrive un figlio a scuola e su 30 ragazzi nella classe, 25 non sono italiani, non parlano italiano. Il venerdì viene cambiato il menù e non c'è il maiale per rispettare il bambino arabo. Tutte cose giuste, però è su questo che la gente si fa un'idea che siamo di fronte a un cambio di modello culturale. Stiamo andando in conto, piaccia o non piaccia, a una società multiculturale. E qui evidentemente poi le opinioni sono diverse. Siccome Ambrosi prima aveva sottolineato che bisogna ragionare sui numeri, dei numeri alla gente. Non gli interessa niente, sono queste le cose che ti fanno percepire. Se tu vuoi accedere a una gradatoria di una casa popolare e hai davanti tutte persone immigrate perché loro fanno più figli e guadagnano di meno, sono quelle le cose che alla fine contribuiscono a renderti l'idea che sei di fronte a una realtà cambiata. E a quel punto poi ognuno si farà le proprie idee. A me sta bene tutto, però bisogna anche uscire dall'ipotesia. Gli spagnoli hanno fatto le peggio cose contro gli immigrati. A Seot e Melilla hanno fatto dei muri che gridano vendetta, hanno sparato contro gli immigrati. La cosa peggiore in tutta questa vicenda sono quelli che vogliono fare le lezioncine. Ricordo, è un fatto di cronaca, ci sono stati degli immigrati che hanno provato ad entrare a nuoto nelle piccole enclave che si trovano nel suolo africano. I poliziotti spagnoli li hanno sparato e ne hanno uccisi. Il governo socialista ha eretto dei muri a Seot e Melilla con delle alti 12 metri, con dei sistemi perché se tu ti provi a scalare rimani ferito. Questo l'hanno fatto i socialisti di Zapatero in Spagna, quindi per cortesia. Nessuno, ora io non voglio fare Salvini, però insomma l'ipocrisia, usciamo un attimo da questo perché veramente è odioso tutto questo.